Ciao, come ti chiami? Alessandro Tu? Claudia E dove sei? San Pierniceto Voi vi state osservando l'infiorata dal balconcino, diciamo Sì, stiamo aspettando la processione Com'è da qui l'infiorata più bella? Eh sì, dai, si vede dall'alto questa meraviglia, è meravigliosa E per te? Bellissima Vi lascio allora a questo incantevole panorama Grazie Ciao Ciao, ciao Come ti chiami? Zina Tu? Antonio E dove siete? Barcellona Barcellona, è la prima volta che hai venuto qua? Sì, avevo visto l'anno scorso il vostro servizio in televisione e quest'anno sono venuta a vedere di persona Noi siamo stati un'ottima pubblicità e poi siete venuti da Barcellona per vedere E anche per te lo stesso? Eh sì, abbiamo visto insieme l'anno scorso la trasmissione e ci ha incuriosito parecchio Quindi quest'anno siamo venuti volentieri A gustarla dal vivo Esatto Ciao Ciao Buona serata Ciao 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 Buonasera Buonasera Posso chiedervi da dove venite? Da Messina La prima volta che siete qui? Sì, questa è la prima volta che siamo qui E come l'infiorata di San Piero? È stata bellissima, è bellissima È meravigliosa, davvero, è meravigliosa, sono da Ucraina, è meravigliosa Quindi lei è anche dell'Ucraina, quindi... È una festa è meravigliosa, li vediamo Tutto il mondo possiamo pubblicare, c'è no? Ora gli faccio vedere in tutto il mondo, ora gli faccio vedere i miei figli, è bellissima, è meravigliosa, veramente, bella, semplice, bella, veramente Complimenti Grazie mille, salutiamo tutti insieme E' un ucro per niente, è bene, sì Una bella esperienza Sì, sì, è vero Grazie, buonasera Grazie Assolutamente Da 1 a 10, 10, dai Grazie Una bella buona Ciao Ciao Buonasera Come si chiama, signora? Gabriella Lei? Pippo Che state facendo? State fotografando? Ma sì, facciamo delle foto Come vi è sembrata questa infiorata? Bella Più bella di sera che di giorno Più suggestivo, con le lucine qui Stai aspettando la processione? No, no, ora andiamo via Va bene, buonasera No, no, ti chiami Nono? No, no, mi chiamo Nono Di dove sei? Sono di Catania io E come ti chiami, possiamo saperlo? Antonino Antonino, no, no, no L'impatto è brutto Ti piace l'infiorata? Molto, molto, sono rimasto molto contento Sei quindi dalla provincia di Catania, quindi non avevi mai avuto modo forse di vederla? L'ho visto da Noto, la provincia Allora, rispetto a Noto, un giudizio? Non c'è paragone Non c'è paragone Molto, molto bello È gratificante questo per il paese, veramente? Sì, sì, per ogni strada sono rimasto proprio bellissimo, bellissimo Ciao Ciao a voi Buonasera, come si chiama? Salvatore Auguri, grazie mille Monica Che naturalmente è un'affezionata dell'infiorata di San Perniceto e sappiamo benissimo il perché Sì, da tanti anni ormai partecipo e questa è già la mia, forse quinta, sesta partecipazione Anche se poi nelle piccole viuzze comunque ho sempre partecipato, quindi è una vecchia tradizione per me ormai Salvatore, abbiamo mangiato molti dolci quest'oggi? Insomma, qualcosa E questa infiorata invece? È bellissima C'è qualche quadro che ti ha colpito in particolar modo? Tutti veramente, sono belli Non è che ce n'è uno particolare Sto qua, quindi Salvatore è imparzialissimo No, è imparziale Auguri ancora Grazie mille Ciao Grazie a voi, arrivederci Ciao Grazie a voi Posso fermarla? Certo, come no? Forse ci riposiamo un po', speriamo niente di grave, no? No, no, solamente stanchi Ecco, allora questa è infiorata di San Perniceo, innanzitutto ci presentiamo Io sono Anna Maria Viene da? Gualtieri Accanto il signor? Peppe io sono Bellissimo onore perché anche il mio Sempre Gualtieri, penso il marito della signora Non sbaglio, allora un giudizio su questa infiorata Che dire? Non ci sono parole Non ci sono parole Un gran lavoro, si vede molto impegno, molta passione e il risultato è evidente Questa è la vostra prima partecipazione? Sì, per quanto riguarda sì Io c'ero già stata, però la prima volta che vedo questa parte così, fatta così come è fatta negli ultimi anni, veramente grande Infatti, nonostante le stampelle siamo venuti lo stesso Sì, nonostante le stampelle abbiamo fatto questo, per vedere questo e per vedere anche la mostra su Caravaggio Le piace il Caravaggio? Indubbiamente Le luci e le ombre di Caravaggio Fantastico, qualcosa di eccezionale E quest'anno penso abbia dato pure quel tocco in più Senza dubbio, perché il sagro e il profano che c'è in Caravaggio Penso che sia una cosa che comunque fa parte di tutte le tradizioni religiose del mondo Lei che è un'esperta in tal senso, un'appassionata Ci vuol dire, perché il Caravaggio l'ha visto, lo conosce C'è differenza o c'è tanta differenza tra le tele e quello che vede raffricurato qui? No, certo non riesco a vederle bene perché sono su un lato Però dico, non possiamo cercare la perfezione del Caravaggio per terra Però c'è già tanti impegni e tanto lavoro, molto belli veramente Allora, l'appuntamento è per il prossimo anno? Speriamo di sì Sicuramente Buona infiorata Grazie Grazie